Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. In questo video di oggi voglio farvi vedere la mostruosità di robe e di oggetti che mi ha mandato a casa il mio carissimo amico Nios, che io davvero ringrazio di cuore ed è un ragazzo che mi segue da diversi anni sul canale e vedendo come sto portando avanti il canale, la modifica grossa, la rivoluzione che c'è stata al canale di board game, giochi di miniature, ma soprattutto war game e il nostro amore per Warhammer sia il vecchio mondo, Age of Sigmar, che il 40.000, il mio e di mia moglie ha deciso di mandarci un po' di roba, un po' di roba che ci ha deciso di fare lui come regalo e un altro po' di roba che gli abbiamo acquistato perché lui aveva un'attività in chiusura gli era rimasto un po' di giacenze, un po' di rimanenze di Warhammer quindi gli ho comprato un po' di roba sia del fantasy che del futuristico e vi faccio vedere un po' cosa mi è arrivata ragazzi fuori di testa ve ne parlo a breve dopo la sigla intanto colgo l'occasione per ringraziarti Nios, grazie, spero di averlo pronunciato bene spero di sì, veramente grazie di cuore per tutte queste cose che ci hai mandato ci hai fatto un regalo disumano e quello che vi faccio vedere ora ce l'ha mandato lui come regalo così gratuitamente invece il resto le abbiamo acquistate da lui ma non vi dico le cifre diciamo che quello che abbiamo speso ci ha dato tre volte tanto quindi una cosa che andare a comprare il negozio sarebbe così da tre volte tanto sei un matto davvero, grazie di cuore ed amico e spero un giorno anche di poterti incontrare a dar vivo e magari perché no farci una partita Warhammer comunque iniziando dalle piccole cose ci ha mandato un po' di Stormcast di Warhammer e Age of Sigmar che sono di quelli facili da montare ragazzi sentite un po' di suono c'è sempre le stampanti che lavorano attorno lo facciamo per lavoro e sono lavori commissionati comunque spero che non dia fastidio ci sono un po' di Stormcast di quelli easy to build quindi metteteci un punto di colla ma fondamentalmente vanno proprio ad incastro i ragazzi sono di una bellezza disumana cioè vabbè non ve lo sto nemmeno a dire i lavori che fa la GV poi questa ve la faccio vedere a breve perché ah no 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 questa qui ce l'ho mandata sempre con la prima spedizione una scatola ragazzi di Primaris Ravers degli Ultramarine che lui sa che sono il mio capitolo preferito dall'altro con i trasferelli da attaccare sopra e niente ragazzi sono veramente bellissimi e queste qui sono le truppe speciali d'assalto e d'incursione dei Primaris quindi del nuovo capitolo con l'armatura Mark 10 poi all'interno ci sono ancora un po' di sprue di Space Marine sempre Primaris quindi anche queste qui vedete con gli attacchi facili non c'è bisogno di colla quindi easy to build anche quest'altri e poi qui nelle vicinanze ve lo giro così per farvelo vedere un pochino uno sbotto di colori sia della Vallejo che della GV guardate là quanta roba c'è qui nel mezzo tipo questi qui che sono della Vallejo e quest'altri qui nelle classiche boccettine come vedete della GV c'è un bel po' di roba dentro e guardate là già ci ha regalato un set di colori veramente disumano grazie di cuore questi sono i Primaris Ravers guardate belli la scatola come sono veramente spettacolari e poi ci sono, ve le metto sopra per farvele vedere un pochino le miniature, quello che vi ho detto, gli easy to build degli Stormcast che ci ha mandato queste sono altre copie di Primaris che ci ha mandato sempre gli easy to build e poi sotto ci sono anche gli Stormcast praticamente montando tutta questa roba qui ci siamo fatti un esercito sia del Legge of Sigmar che del 40.000 poi l'ultimo ordine che gli abbiamo fatto appunto gliel'abbiamo acquistato direttamente ci ha mandato anche lì uno sbotto di regali una scatolina di Goblin anche ora perché poi vi spiego perché una scatola di Goblin con uno che li comanda perché io e mia moglie stiamo ristampando in 3D e ci faremo un video dedicato tutto Star Quest tutto dall'inizio alla fine quindi stiamo ristampando le planche stiamo ristampando le porte le mura, le incrociate però non potevamo ristamparlo tutto con le vecchie miniature allora lo stiamo rifacendo anche a livello di miniature ci mettiamo con le 9 della GV quindi i Goblin poi ci ha mandato come regalo una scatola della banda degli Skaven di Shadespire veramente bellissima anche queste qui poi vabbè le miniature della GV ragazzi banale a dirvelo sono sempre il top del top poi questi li volevo da una vita veramente spettacolari ci ha mandato i Bloodletters che sono i sanguinari del Chaos di Korn guardate bellissime in questa scatolina appunto dell'Age of Sigmar ma non solo del 40.000 i demoni sono sempre gli stessi e vedete sono 10 miniature insieme a questo l'armata del Chaos mia preferita che sono i Rubrik Marines che sono praticamente i Thousand Sons e sono l'armata l'esercito principale del dio del mutamento Zinch e questi sono del 40.000 praticamente hanno questo taglio che ricordano un po' antiche egizie o cose del genere e sono spettacolari poi parlando sempre di voler rifare Starquest barra Space Crusade abbiamo preso una scatola di orchi perché gli orchi ovviamente ci servono per andare a fare miniature nuove dei vecchi orchi di Starquest e sono bellissimi poi questa è cicciotta disumana una scatola questa solo per l'Age of Sigmar di 16 miniature con tutti i nuovi guerrieri del Chaos ragazzi guardate voi quanto cavolo sono belle e quanto grande è questa scatola qui praticamente è un'unità intera poi visto che non mi erano mai piaciuti l'ho sempre criticato e tu mi sputo un faccio da solo ma mi stanno iniziando a piacere da morire gli Stormcast Eternals dell'Age of Sigmar guardate ce ne sono 5 questi sono i paladini praticamente sono le unità speciali e anche questi qua ragazzi badate bene voi alle miniature non ci è presa un po' di paura al tempo inizio Covid quando sembrava che volessero bloccare la GV chiuderla col fatto degli spostamenti la merce ragazzi se chiudono la GV io penso veramente il collezionismo e i giochi di miniature a livello mondiale sono finiti crolla tutto ma non lo faranno mai e poi gli Space Marine Tactical Squad con l'armatura Mark 9 se non erro l'ultima prima non sono Primaris e abbiamo preso anche questo set qui perché appunto volevo rifare le tre armate vabbè le tre armate le tre squadre Kill Team che ci sono all'interno di Star Quest che sono gli Ultramarine gli Imperial Fist e Blood Angel e con questi ci facciamo gli Ultramarine magari li farò sia in versione normale che in versione Primaris e questa è tutta la roba che ci ha mandato e poi vabbè ci ha regalato anche una colla per incollare le miniature ragazzi in conclusione fra la roba che ci ha regalato la prima parte vi ho fatto vedere che la roba che abbiamo acquistato non vi sto a dire il valore fate voi è veramente disumano poi loro mi stanno iniziando veramente a garba un tempo li prendevo per per i fondelli dicevo sembrano gli Space Marine del fantasy fondamentalmente lo sono gli Stormcast Eternals però sono bellissimi non sono il mio esercito preferito dell'Age of Sigmar io e mia moglie abbiamo i Night Haunt e le Daughters of Cain che ci facciano andano a morire però anche loro sono bellissimi più che altro mi garba la lore questi guerrieri sacri che quando muoiono la loro anima si rincarna e Sigmar col suo potere li rimette in vita praticamente non muoiono mai l'anima è mortale e si rincarna nel corpo le Space Marine il gene che è una Space Marine non muore mai quindi sono veramente le Space Marine del passato del fantasy e io ti ringrazio di cuore Nios veramente grazie 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 immensamente mi dispiace di essere arrivato tardi dopo poi perché ti avrei comprato tutto il negozio a questo punto quindi tutta la roba che ci avevi ma tanta se l'è tenuta anche lui perché anche Nios è collezionista e giocatore di Warhammer quindi tra l'altro fan della Death Guard che insieme a Thousand Sons sono i miei secondi preferiti quindi grazie veramente di cuore è un piacere immenso disumano e poi ci faremo altri video quando magari li pittureremo e cose del genere ragazzi fatemi sapere un po' cosa ne pensate e se volete acquistare roba della GV ve lo ricordo sempre dal nostro sito sponsor che trovate primo link in descrizione in sovrimpressione gioco libreria semola tanto vedete il link e quando acquistate codice discount scrivete Coridan 7 con il numero Coridan 7 tutto maiuscolo per avere uno sconto del 7% e magari non ci pagate nemmeno le spese postali quindi se dovete acquistare qualcosa andate direttamente da Corrado della gioco libreria semola e se una cosa di queste che avete visto non ce l'ha in lista magari fatele o l'ho visto nel video di Coridan si potrebbe avere perché lui ve le ordina magari direttamente dal sito della GV quindi fatevi sentire e usate il codice ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti